Il Privatsphere Secure Messaging Service è un servizio protetto di messaggistica online che consente di raggiungere in maniera sicura, comoda e senza preavviso qualsiasi partner, compresi quelli che non dispongono di programmi di sicurezza o certificati. Il sistema permette di tracciare le email in modo giuridicamente vincolante e nel rispetto sia del segreto professionale sia della protezione dei dati. Offre inoltre la firma digitale con tutti i suoi vantaggi. A protezione dell'utente, tutte le email sono sottoposte a scansione antivirus. La piattaforma di messaggistica sicura offerta dalla Privatsphere di Zurigo è la prima piattaforma di trasmissione elettronica ad essere stata riconosciuta con decisione del Dipartimento Federale delle Finanze del 22 dicembre 2010. Il servizio di messaggistica sicura Privatsphere consente diversi tipi di invio e viene utilizzato quotidianamente nell'amministrazione federale. I messaggi inviati mediante il conto di messaggistica sicura sono inoltrati in maniera protetta e riservata. Durante l'inoltro, le email confidenziali non possono essere visualizzate da terzi. Infatti, grazie al MOOC, un codice di accesso 1 a Tantum, si garantisce che solo il destinatario autorizzato possa accedere al messaggio. Se l'email viene inviata come raccomandata, l'ora di invio e di arrivo, così come il suo contenuto, sono protocollati a prova di falsificazione e l'email ha pertanto forza approbatoria. Come per le lettere raccomandate, il messaggio viene inoltrato con una ricevuta di ritorno. Se l'email non viene ritirata entro sette giorni, viene revocata e il mittente riceve relativa comunicazione. Il servizio raccomandata eGov ha le stesse funzionalità della raccomandata Privatsphere, ma adempia anche i requisiti dello scambio elettronico di atti giuridici dell'Ufficio federale di giustizia ed è omologato per la comunicazione con autorità e tribunali in Svizzera.